buongiorno amici natura e funghi oggi corbezzolo insieme alberto che lì giù valerio roberto e questa è una piccola fungaglietta qui in questo è il primo questo è il secondo sotto corbezzolo eccoli qua il terzo nuovi nuovi poi abbiamo questo qui splendido e l'ultimo eccolo qua bianchi bianchi oggi non ci ricordiamo neanche il giorno oggi è venerdì 14 novembre a posto ciao a tutti ragazzi